Casso, è tua madre. Che cosa vuoi che le dica? Agente speciale Kit Beckett dell'ufficio del procuratore generale. Lasciate un messaggio. Ho sempre pensato che tu e io avremmo avuto i figli insieme. Davvero? Ne hai parlato con Jenny? Lo sai che intendo. Sarebbero nella stessa squadra giocare a baseball e noi saremmo co-allenatori. Co-allenatori? Vuoi essere capo-allenatore? Prima trovati una ragazza. Contaci. Ehi, Marta, come mai qui? Lo so che siete impegnati, ma sono preoccupata per Richard. Davvero? Perché? Ieri sera è stato portato via da un paio di agenti federali, brutti ceffi. E quando abbiamo parlato oggi era carino, gentile e non faceva battute impertinenti. Quindi è chiaro che c'è qualcosa che non va e Catherine non risponde alle mie chiamate. Sono sicuro che c'è una spiegazione. E ho bisogno che voi la scopriate. Che c'è? Ehi, Beckett, siamo Esposito e Ryan. Va tutto bene? Certo, perché? È venuta la madre di Castle, è molto preoccupata. Avanti, Beckett, che succede? Va tutto bene. È venuta la madre di Castle. È venuta la madre di Castle. È venuta la madre di Castle.